Una misura forte, una misura dettata dall'assoluta necessità di frenare la diffusione del virus e l'incremento dei contagi. Il passaggio di tutta Lombardia in arancione rafforzato a partire dalla mezzanotte di oggi fino a domenica 14 marzo, annunciato oggi a Sondrio dal governatore Fontana, fa tornare indietro di un anno. Un incubo che non sembra davvero finire più. Un momento ancora difficile, quindi bisogna stringere i denti, bisogna andare avanti, bisogna farsi forza, anche se non è facile, però questo è quello che dobbiamo fare. Misure più restrittive, forse anche troppo, per la situazione attuale dei contagi in provincia di Sondrio, che tuttavia, a differenza delle scorse settimane, sono state stese indistintamente all'intera regione. Purtroppo la situazione si sta evolvendo non in modo positivo, soprattutto queste varianti hanno una capacità di diffusione esponenziale rispetto al virus che ormai abbiamo imparato a conoscere. Le situazioni, se prima si evolvevano nel giro di 10-15 giorni, con le varianti nel giro di 2-3 giorni, ci sono degli incrementi notevoli e quindi il Presidente Fontana ha anche sentito il nostro CTS, i nostri scienziati, ha ritenuto di stringere immediatamente, anche perché dobbiamo cercare assolutamente di contenere la diffusione del virus. Da mamma, la consigliera regionale Simona Pedrazi non ignora di certo i disagi che questo cambio di colore procurerà tante famiglie, con bambini soprattutto in età prescolare, ma non solo. È una misura forte, nessuno probabilmente se lo aspettava, ma purtroppo sono situazioni che vanno gestite solamente in questo modo. Noi ci rendiamo conto delle difficoltà che prima di tutto avranno i genitori nel dover gestire ancora l'assetto familiare. Poi per quello che sono le aziende, le imprese, la parte lavorativa, dove in qualche modo vedeva un po' la luce in fondo al tunnel, ma che in questo modo si ritrova ancora ad avere una preoccupazione ulteriore. Però è dovuto, purtroppo la variante inglese non guarda in faccia a nessuno, anzi è molto più forte di quelle a cui abbiamo avuto a che fare fino ad oggi. E la cosa veramente che preoccupa è che sta attaccando i giovani, fasce d'età molto bassa, fasce d'età legate anche ai giovani bambini, delle elementari, e quindi questo ha messo sicuramente in allarme tutto.